In questo video parlo di tensione muscolare da ansia e stress, quindi da tutti quei fattori legati all'aspetto emotivo. Quando parliamo di questo argomento parliamo soprattutto di tensione muscolare al collo, alla zona delle spalle e alla zona del dorso. Molto più raramente questa cosa si manifesta in altre zone, anche se non è impossibile. Le caratteristiche della tensione muscolare da stress sono quella di essere diffusa, quindi non localizzata in un preciso punto, ma ampio, di avere poco beneficio dal movimento, mentre invece quando ho rigidità da poco movimento, se io vado a fare esercizi di mobilizzazione ho beneficio, quella di avere una sensazione quasi costante di voler fare scrocchiare la zona, di volersi stirare, e quella della presenza di altri sintomi. Cosa intendo per presenza di altri sintomi, in particolare sintomi vegetativi? Dato che la tensione muscolare da stress è causata da meccanismi nervosi, quindi che sono all'interno del cervello, questi stessi meccanismi non accendono solo la tensione muscolare, accendono la tensione muscolare ma alzano il battito cardiaco, chiudono lo stomaco perché si suppone che non sia il momento ideale per digerire, e così vi aumentano la sudorazione, quindi oltre ad avere la tensione spesso si hanno anche questi altri tipi di sintomi vegetativi. Come mai si soffre di questo tipo di problematica? Beh, tieni presente una cosa, il nostro sistema nervoso decide come rapportarsi con l'esterno, quindi decide quanta tensione andrà a sviluppare, quanto stato di ansia, quanto stato di allerta andrà a sviluppare, a seconda di quello che gli è successo principalmente nei primi tre anni di vita. Quindi le persone che sono ansiose spesso lo sono da sempre perché sono cresciuti in ambienti così o gli sono successi determinati eventi nei primi tre, cinque, anche dieci anni di vita. Quindi in buona parte questo tipo di impostazione di tensione costante è, chiamiamolo, congenito. Sicuramente però coincidono anche altri fattori, tipo la poca attività fisica, ci sono anche fattori nutrizionali che possono contribuire nell'aumentare lo stato di ansia e naturalmente tutto quello che ci succede nella vita che ci provoca stress o poca soddisfazione e così via. Che cosa si può fare per migliorare e risolvere questo problema? Perché a volte i sintomi sia di tensione che i sintomi collaterali sono veramente fastidiosi. Beh, se pensi ai meccanismi causativi, io direi che la prima cosa da fare è rapportarsi correttamente con il problema. Se lo stato di tensione costante dipende da una tua impostazione atavica, chiamiamolo, beh, devi innanzitutto sapere che non è facile risolverla. Bisogna andare a lavorare sulle abitudini, su tutta una serie di aspetti che sono probabilmente incastrati lì da molto tempo. Quindi direi prima cosa, rapportarsi correttamente col problema. Non è facile da risolverlo e bisogna risolverlo con meccanismi che partono dall'interno. Sono tensioni che non si riescono a manipolare, non traggono beneficio se non molto temporaneo dalle manipolazioni o di altre cose. Quindi, prima di tutto, rimboccarsi le maniche. Come rimboccarsi le maniche? Ci sono alcuni suggerimenti che possono aiutare, anche se la ricetta magica davvero non ce l'ha nessuno. Ognuno deve trovare un po' quelli che sono gli stimoli che gli fanno meglio. L'attività fisica intensa, più che quella a bassa intensità, quindi più che le camminate, l'attività intensa, come può essere l'attività aerobica, l'attività in palestra, sono tutto quello che anche ha preferenza individuale, è sicuramente un ottimo aiuto. Quindi, come numero uno, schedula un'attività fisica perché può esserti molto d'aiuto. Dal punto di vista dell'alimentazione si possono ottenere sicuramente dei miglioramenti, anche qui non ci sono ricette prefissate, non c'è la dieta anti-ansia o altre stupidaggini di questo tipo. Ognuno deve trovare, rimanendo all'interno di quelle che sono le raccomandazioni classiche, il numero di calorie, quindi la quantità dei cibi, la distribuzione dei cibi, i tipi di cibi che sembrano farlo stare meglio. Non ci sono ricette prefissate, ognuno deve fare un po' di prove. Non è facile, ma funziona. Riguardo la gestione dello stress generale, chiaramente è un argomento troppo ampio per parlarne così in un breve video illustrativo della problematica tensione muscolare. Io sono molto appassionato di crescita personale, quindi credo che investire tempo nel ricercare meccanismi che possano aiutarti a migliorare, sia un'ottima arma per tenere basso lo stress e per capire come mai alcune cose della tua vita possono non andare come dovrebbero. Quindi investire tempo sulla crescita personale credo sia un'ottima strategia, oltre a quelle classiche di meditazione, rilassamento, che aiutano anche quelle sicuramente. Quindi non ci sono ricette magiche o esercizi specifici contro la tensione muscolare e da stress. Un consiglio che ti posso dare è sicuramente questo. Nel mio sito, l'altrareabilitazione.it, ho come punto fermo un test di autovalutazione dei sintomi. Fatto questo test di autovalutazione dei sintomi, se vuoi e solo se vuoi, puoi ricevere via mail una volta alla settimana dei consigli specifici per il profilo che ne uscirà. Sicuramente se metti in atto tutte le raccomandazioni che ti arrivano dopo il test, noterai un abbassamento della tensione muscolare, perché ci sarà un abbassamento dello stress generale, fidati. Ovviamente sull'altrareabilitazione.it puoi trovare tante altre informazioni su argomenti come questo, puoi anche contattarmi. Fammi sapere com'è andata e ci vediamo alla prossima. Grazie per la visione!